Bentornati amici della Gudo Terror, in questa puntata speciale vogliamo raccontarvi di come è iniziata la nostra storia d'amore con la regina dei cipirendi, la carpa, ma vediamo subito alcune semplici regole da seguire per organizzare una corretta sessione di pesca. Prima regola, dotatevi di un guadino decisamente capiente, atto a poter recuperare senza problemi pesci di dimensioni considerevoli. Seconda regola, il materassino è importante per l'incolumità e la salute dei nostri simpatici ciprinidi. Terza regola, prima di rilasciare la nostra preda ricordiamoci di disinfettare per bene la ferita. Bene, ora possiamo cominciare. Grazie a tutti. Ciao a tutti amici. L'avventura che vi vogliamo raccontare stavolta è quella di come abbiamo iniziato ad avvicinarci al meraviglioso mondo del carp fishing. Come tante altre nostre avventure, ci troviamo nel nostro Isonzo, uno fra i più bei fiumi d'Italia. Acque limpide ed azzurre scorrono tra bianchi ghiaieti e questo splendido corso d'acqua è popolato da una buona varietà di fauna idica. C'è una buona presenza di pesce foraggio? Ci sono le trote fario, le trote marmorate, i luci, i cavedani, le tinche, i barbi, perfino i cefali. Ma soprattutto ci sono le carpe. Questa nostra nuova storia inizia da una solitaria battuta serale di minimal fishing a bolognese. Il minimal fishing è ovviamente un nome che abbiamo inventato noi per un tipo di pesca minimal, sia in termini di attrezzatura ed esche che di costo delle stesse. E' proprio il tramonto di una di quelle rare calde giornate soleggiate che pescando con la nostra fida bolognese da 7 metri, insediando cavedani, barbi e salette d'intralight, un cucciolo di carpa, insomma una carpetta irriverente, decide di entrare in pastura e di farsi pigliare. Il rumore della frizione che partiva da tutte le parti, la totale incapacità di controllare quel piccolo sottomarino fotonico con un finale in nylon dello 010 e una meta del 18, la nostra fida bolo impegnata in un combattimento epico ma divertentissimo, insomma ragazzi, fu amore al primo incontro. Ma non divaghiamo troppo con i ricordi, cominciamo invece come da copione dalla nostra battuta di pesca dedicata al minimal fishing che tanta soddisfazione ci ha dato. Devo dire a Capitan Sitch che è un po' cambiato il panorama dall'apertura, è diventato una selva oscura impervia dove non passano nemmeno i camoci. Iniziamo finalmente a pescare, la tecnica del minimal fishing prevede di avere solo il minimo indispensabile, non abbiamo cassettine, sedie, secchi, sfarinati, pastelle eccetera eccetera, siamo armati di una canna bolognese di 7 metri ad azione morbida, ci montiamo un piccolo mulinello del 2005 con in bobina un buon nylon dello 016 e sarà proprio la combinazione data dalla canna morbida e dall'elasticità del nylon a permetterci di combattere pesci di elevata taglia nonostante utilizziamo finali sempre in nylon dell'ordine dello 010-012 però un po' di qualità. A corredo del setup useremo degli ami della sesame che io adoro e delle micro girenne. pescheremo a passata con un galleggiante dai 2 ai 3 gradi, non troppo bombato perché pescheremo in un rigiro di corrente particolare dove avremo bisogno di un galleggiante stabile ma allo stesso tempo sensibile e con un'asta abbastanza lunga. Tutte le esche che avremo con noi non saranno altro che 3 o 4 vasetti di mais economico da supermercato e una scatoletta di verbi. Iniziamo a pasturare un po' e iniziano subito le danze. Il primo pollo come sempre è un cavetano. ecco qui un bel cavetano. Se ne sta andando, se ne sta andando, ma è ancora attaccato alla canna. un po' e iniziano subito. grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Ragazzi che lusso Un bel cavedano targato isonzo E una marmorata che avrà avuto come minimo 3 kg da tanto cicciona era Wow aveva una pancia che faceva provincia L'abbiamo soprannominata la trota Peter Griffin Questo tipo di pesca è davvero meraviglioso Nel momento in cui allamiamo un pesce Sentiamo ogni singola testata Ogni scatto Ogni movimento sott'acqua Dobbiamo sicuramente lavorare molto di frizione Ma credeteci che non serve attrezzatura costosissima Il mio setup costerà al massimo 100 euro tra cane e murinello Ma è una vera godoria pescare così E il nostro amato isonzo Oggi sembra prodigo di catture E questa che abbiamo in cane è stata una vera sorpresa Un regalo che non vedevo da anni E che ci ha dato veramente filo da torcere Guardate un po' Pimpio di cattorio Pimpio di cattorio Che spettacolo! Chi frequenta l'isonzo come noi può ben capire il mio stupore per una cattura del genere. E' rarissimo pescare una tinca, soprattutto di questa stazza e di questa bellezza. Le tinche sono pesci che crescono molto lentamente negli anni, per cui questo magnifico esemplare di oltre 2 kg avrà come minimo 6 o 7 anni di vita. La giornata prosegue a ritmo frenetico e oggi sembra che tutta la popolazione ittica sia affamata e subito dopo arriva un'altra marmorata ingannata dalla presentazione del nostro verbo come in passata. Per fortuna pescando ultralight e con ami veramente ridicoli, nell'ordine del 18 più o meno di misura, possiamo rilasciare tranquillamente le nostre catture senza ledere loro organi vitali in fase di slamata. Anche questo è il bello di questa tecnica. che giornata amici. una battaglia dietro l'altra, anche se il tempo purtroppo sta peggiorando a vista d'occhio. La sera sta arrivando e mentre il nostro galleggiante sta facendo una delle ultime passate della giornata, arriva lei. La mangiata che stavamo aspettando. Eccola! 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 Guarda che la sta puntando! No, 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 no! Ciao eh! Staccada! Ha puntato controcorrente, ha nuotato, ha nuotato, ha nuotato, a un certo punto si è girata, l'ho sentita proprio che si è girata e tornata indietro, come che il filo è andato a mancare la tensione del filo, si deve essere slamata. Ma no, ma no, ma no, non credo che abbia, no, guardate c'è ancora il verme. Ma è stata un'orata? Purtroppo il meteo è meno generoso dell'isonza in questo periodo e il sole e il bel tempo di oggi sono svaniti a favore di un temporale di quelli importanti. Inutile rischiare di rimanere fulminati e a malincuore prendiamo atto della fine della nostra fortunata battuta di pesca. Il maltempo è durato molte settimane e l'isonza era davvero impescabile, anzi, era addirittura diventato pericoloso con una montana marrone che non sarebbe passata troppo presto. Ma noi siamo l'agudo terror e non ci rendiamo e quel sottomarino fotonico mi è andato davvero per traverso. Decidiamo di spostarci e tentare la fortuna in canali più blandi e praticabili della bassa isontina, ma la nostra fida bolognese lì non ci può aiutare. Canali stretti, poco profondi e sott'acqua c'è un intricato sistema di alghe e piante ben sviluppato e in molti possibili incagli. Qui l'ultralight davvero non si può di certo utilizzare al meglio. Decidiamo quindi di buttarci sull'artiglieria pesante e iniziamo a preparare una sessione di carp fishing classico iniziando dalla pastorazione. Siamo determinati, vogliamo la nostra carpa. Per la pastorazione prepareremo un composto di granaglie varie. La base di tutto sarà sicuramente il mais. Mais che cucineremo almeno 30-40 minuti in modo da separare la cellulosa di cui è ricoperto dalla polpa. Ricordiamoci che il pesce non riesce a digerire la cellulosa per cui rischiamo di fare del male alle nostre amiche carpe, se non addirittura di ucciderle. Ci aggiungiamo poi un mix di semi vari, a partire dalla canapuccia che potete recuperare in qualsiasi agraria. Io poi ci aggiungo anche semi di girasole nero e infine un po' di semi di lino che doneranno un alone di viscosità importante al composto. Ci reccheremo sullo spot e inizieremo a guardare come si comportano le nostre carpe, dove stazionano, quali buche sono le migliori, come si spostano, in modo da raccogliere più informazioni possibili sulle loro abitudini. Pastureremo per tre giorni di sedito. Il quarto giorno pausa e il quinto giorno ci presenteremo armati di tutto punto. Primo ai rig che monteremo oggi è questo. Abbiamo già fatto una pasturazione di una settimana con le boilers al gusto fragola e questa è la nostra presentazione. Sacchettino in piva, ovviamente questo si scioglie in acqua. All'interno abbiamo tre o quattro boilers intere e un bel po' di boilers pezzettate. Questo è il secondo rig che utilizziamo sempre per le boilers. Abbiamo creato una sorta di rig, creato con due occhielli. La particolarità di questo rig è che monteremo qui sopra una boilers singola e nel momento in cui la carpa mangerà la nostra boilers può fare un movimento molto sensibile di questo tipo senza che la carpa senta il peso del lamo e in questo caso non si accorgerà nemmeno di succhiare l'amo insieme alla boilers. A quel punto il nostro amo si girerà nella sua bocca così e si prenderà da sola e noi saremo contenti. Poi andremo a montare i rig classici per granaglie. Una cosa veramente banale, una rig molto lunga, ci infiliamo 4 o 5 pezzi di granaglie. In alcuni casi io ci aggiungo anche un pezzettino di spugnetta galleggiante. Questo ci permetterà di tenere un po' più staccato dal fondo il mais. Tanto funziona lo stesso. Ma come sempre amici, bando alle ciance. Una volta calati con cura le nostre esche e scelto le buche giuste e preventivamente pasturate, non ci resta che attendere. Di soli sta calando. E se siamo fortunati riusciremo a prendere la nostra preda prima che faccia buio, evitando di fare una nottata massacrante nel regno della zanzara. E sì amici, perché anche se siamo abituati a ragni, bacoli e zanzare, qui siamo in zona di bonifica, un'ex palude. E qui veramente non c'è autan che tenga, per cui... Come dire, se la nostra bella carpeta si muovesse, ci farebbe davvero un grande favore. Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo salvi. Abbiamo preso la nostra carpeta in tempo per sfuggire all'assalto frontale delle zanzare. Ci è andata discretamente, ok? Ma io spero ancora una bellissima carpa del Lisonzo. E abbiamo tanto, tanto atteso finché Lisonzo è ritornato ottimale. E di nuovo, al tramonto di un altro magnifico giorno spenserato di pesca, siamo riusciti a catturare lei, la carpa che volevamo. Siamo in un altro spot, più verso la foce, e questo è pieno di tronchi semi sommersi. E secondo voi, il nostro sottomarino fotonico, dove si sarà andato a piantare? Il nostro sottomarino fotonico, dove si sarà andato a piantare. Il nostro sottomarino fotonico, dove si sarà andato a piantare. Il nostro sottomarino fotonico, dove si sarà andato a piantare. Eccola qua! Colpiamo il sottomarino fotonico. Un piccolino. Lisonzo è un fiume che sa donare grandi soddisfazioni a chi lo ama e lo rispetta. L'importante è ricordarsi sempre che in questo delicato ecosistema, gli intrusi siamo noi. E tutte le prede che andremo a disturbare, le dovremo rilasciare con cura ed amore. In modo che di nuovo, un domani, potremo riprovare le stesse emozioni di oggi. Ciao amici e alla prossima avventura targata Gudo Terror! Ciao! 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 Speriamo che Capitan Sitch faccia presto! Ma noi ho sentito... Sentite cosa mi sto facendo ascoltare! Un nuovo video per ora... Una volta... Un nuovo video per noi... Ehi! per noi! Un nuovo video! Un nuovo video! Un nuovo video per noi. Grazie a tutti